Anche che fai un disco per i cazzi tuoi, una dice potevi anche evitare, no perché? Fondamentalmente nel testamento non si parla tanto di noi, ecco quello è un argomento noi intendo, noi che viviamo nel mondo ora, adesso è un argomento abbastanza abusato degli zen, è un argomento che i zen intendono intraprendere solitamente e nel testamento parla di cose che non riguardano noi, ma che spesso riguardano anche il nostro passato, ecco c'è un'usanza, c'è un'usanza che c'era qualche tempo fa, è quella che quando una donna sposata, ai tempi dei nostri nonni rimaneva incinta di un figlio, insomma che non era proprio del matrimonio, veniva mandata in esilio, non so se qualche nonna vostra è capitato è capitato alla mia, e lei dice che cazzo fai a una canzone su una roba del genere, non succede più da un sacco di anni lo so, però quelle robe lì portano poi, quelli dopo, a perdere un treno abbastanza fondamentale, quello della sanità mentale è capitato alla mia, e lei dice che cazzo fai a una canzone su una didattica e lei dice che cazzo fai a una canzone in esilio, non so se e a un'usanza che ci costa più da una canzone su una ragione Proprio sotto all'urnas, lui vestito da bambina, lei belliccia scarente, una smappa per casa. La sanità ambientale, fonti discorsi, è una questione durare, un pensiero di troppo antipanale, e le cambiano un finale. Non dividi un po' tutti i beni del mare, soprattutto per il mare, quando quella luna potenza giù rispetta in quest'nale, un ritorno a fiumfar, l'uomo nero che dorme sui lavaggiare. Tra dei risparmi, vantaggi e scusiri, perché è stato puntuale, lei si rossetta i capelli, forza stretta sulle gambe, taglia Dio, legge il giornale. Lui ne capisce ancora poco, prevede tutto quel che è fede per un bambino, è più normale. E l'uomo nero, intanto, si è svegliato, sveglia l'altro figlio, fa lavorare. Un po' di vino, un po' tutti i beni del mare, di fango e di cinghia di svuotare, da stare una potenza per le dire tonale. E l'uomo nero, che dorme lì da toccare. Anche se l'uomo nero, si esplode in ferro, la rapida, la fa vomitare. Anche se lui non è più del soggetto, senza ancora, si torna americani. Anche se lui non è più del soggetto, senza ancora, si torna americani. Il treno ha sbagliato, è arrivato in ritardo, ad accoglierlo in me strada. L'uomo nero, spurtò un pezzo di dente, il caffè è ancora da finire. Lei è il signo, un sorriso, si stama il berrettino, lo mostra fiera a suo padre. Che tiene in braccio, un figlio di arrivare, è benvenuto a quello da affogare.